Nonostante la sconfitta con il Matelica, a Mauro il Pineto esce a testa altissima da questa stagione dopo aver raggiunto il massimo risultato della sua storia. Sì, un'annata straordinaria, un'annata dove non ci credeva nessuno e siamo riusciti a raggiungere questa finale. Volevamo chiudere con la ciliegina sulla torta, con una vittoria, non era faccia perché il Matelica ha dimostrato tutto il proprio valore, in casa poi esprime un ottimo calcio, ha buone geometrie, dobbiamo fare una partita perfetta, cosa che non abbiamo fatto nella prima frazione, abbiamo subito diverse situazioni, siamo andati sotto i due golle. Ma sinceramente non subendo tantissimo perché il nostro portiere non ha fatto nessun intervento importante, quindi il 2-0 sicuramente era un risultato pesante nella prima frazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto la gara e il Matelica è sceso fisicamente, ci abbiamo provato con tutte le nostre forze ma non siamo riusciti a trovare la rede che poteva riaprire il match. Questo finale di stagione è anche un po' la rivincita di Amaulo che durante il campionato qualche volta era stato anche messo un po' in discussione, non dalla società ma dalla critica. Ma a parte dell'allenatore mette in discussione, nella mia carriera mi ci sono sempre messo e sono consapevole che nel calcio bisogna lavorare, curare i particolari, trovare l'equilibrio giusto. Noi ci abbiamo messo un po' di tempo a trovarlo e a volte magari uno o due giocatori può rompere l'equilibrio di una squadra e oggi si è visto. Quando l'abbiamo trovato abbiamo fatto un campionato in crescendo, abbiamo raggiunto il massimo risultato per il Pinedo quindi evidentemente qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Da domani si inizierà a pensare al futuro sulla panchina del Pinedo, la prossima stagione ci sarà ancora Daniela Amaulo? È presto per dirlo, adesso non so l'intenzione della società. Ma la sua intenzione qual è? Ma adesso da vedere i programmi, c'è da incontrarsi i mezzi di seduto, adesso non è il momento di parlare di queste cose e domani diciamo si vedrà. Io ringrazio il mio staff, ringrazio la società, ringrazio veramente tutti dal primo all'ultimo perché mi hanno fatto sentire un allenatore unico e speciale. Dalle sue parole traspare emozione ma anche amarezza per quello che è stato il finale della stagione regolare dopo aver dominato per quasi tutta la stagione il campionato. Quella sconfitta di Avezzano vi ha negato la promozione in Serie C? Questo è il calcio, chiaramente siamo molto dispiaciuti perché penso che abbiamo fatto un tragitto eccezionale. Anche nelle sconfitte abbiamo dimostrato di essere una squadra che probabilmente, salve mister, che sa stare dentro la partita sempre, se mi vengono in mente le ultime quattro sconfitte in trasferta, abbiamo quasi sempre dominato il campo e sono tornata a casa con quattro sconfitte in cui abbiamo subito gran pochi tiri in porto, forse dei calci da fermo. Questo è rammarico però questo è il calcio, ci teniamo ben stretti questi ricordi, queste emozioni folli perché ripeto l'emozione più grande l'ho vissuta martedì che voi sapete che sono diventato babbo ma l'emozione più grande dal punto di vista sportivo mi ha fatto provare Mattelica, i miei ragazzi, il mio staff.